Buongiorno a tutti, anzi buon pomeriggio a tutti, qua come vedete siamo all'altezza del baretto e purtroppo questa meravigliosa giornata, questo è quello che questa mattina è apparso, perché i giorni fa una televisione, ora sono apparsi questi, qualcuno sta sistemando casa, come vedete qua siamo in un posto meraviglioso, questa robaccia la porta allo scivocco, mentre questo, vedete, terra, questa è la merda che qualche incivile di Torre Faro, abitante, qualcuno che sta facendo lavori, ha il buon gusto di portare in spiaggia, evidentemente di notte, farò una denuncia ovviamente contro i gnoti e i carabinieri e i vigili urbani, sperando che questa merda, queste persone, se così si possono chiamare, possano essere magari mettendo una telecamera, non so, ah là c'è il televisore che è spuntato pure due giorni fa.